Con la sapiente direzione artistica della dottoressa Amalia Fallucca si è tenuto presso la discoteca Black & White in Monte Ruscello, la consueta ed annuale cena spettacolo dell'associazione Angeli in Musica, alla manifestazione alla quale ha partecipato un folto pubblico. Ci sono stati numerosi artisti di tutte le età che si sono avvicendati sul palco ed hanno allietato la serata con balli e canti a tema natalizio.